Che bello, si ritorna in pista con lo slalom. Lara Della Mea e Gulia Neta, due ragazze straordinarie, giovani e allenate da David Salvadori. Sono certa che daranno il massimo di loro stesse, che bello vederle in gara. Sarebbe stupendo che possano avere un buon risultato, ma sono convinta che solo il lavoro farà sì che questa squadra nazionale dello sci alpino dello slalom possa ottenere i grandi risultati. Sono anche convinta che mettere insieme più ragazze ed allenarle in un modo più assiduo verso questa disciplina farà sì che si possa tornare ai grandi livelli delle quali la nostra nazionale ha bisogno. Intanto un grande in bocca al lupo a Lara e a Danita e a tutti quelli che stanno gareggiando in queste fantastiche Olimpiadi.